Farei un passettino indietro perché noi immaginiamo qualcosa di molto disruptive, c'è una discontinuità fortissima. In realtà il fintech vuol dire semplicemente, è un termine che è stato cognato di recente, ma è un termine che esiste da sempre, perché fintech vuol dire utilizzo della tecnologia per migliorare l'efficienza dei servizi e dei prodotti, quindi esiste da sempre. Esistono dei modelli, degli algoritmi da fine anni 90, quindi non stiamo parlando di qualcosa di assolutamente nuovo e di pervasivo sui mercati. Quando si parla di informatizzazione o di utilizzo della tecnologia, e veniamo ai giorni nostri nel nostro mondo, in Italia, a mio avviso riguarda tante fasi nel mondo della distribuzione che possono in qualche modo essere migliorate, quindi sono solo buone notizie. Facciamo qualche piccolo esempio di che cos'è fintech nel mondo della distribuzione e della promozione finanziaria. Se oggi un cliente ha un dossetitoli, dei fondi, una gestione patrimoniale, dei prodotti assicurativi, da un punto di vista fiscale e operativo, è semplicemente un casino. Fintech oggi esiste la modalità di creare delle piattaforme di prodotto, quindi mettendo insieme tecnologia, per far sì che dentro un unico contratto si possano far convivere soluzioni gestite a monte, dossetitoli, fondi compensati fiscalmente, con operatività pari NAV, eccetera, eccetera, eccetera. Wow, fintech vuol dire risolvere i problemi operativi fiscali che ci rompono le balle da mattina a sera. Smarcato. Questo è il compito del distributore di mettere a posto, ma è pura tecnologia. Tre anni fa sarebbe stato molto complicato. Oggi si possono fare delle piattaforme prodotte straordinariamente innovative. Passiamo alla consulenza. Qual è il problema oggi di tutti i nostri clienti? Che il BTP non rende più, che sono carichi di immobili, e che c'è un problema di passaggio relazionale, che sono tutti terrorizzati dalle successioni. Wow, oggi posso con un clic scaricarmi tutto il patrimonio immobiliare, normalizzarlo, caricare tutti gli algoritmi per fare un pre-passaggio relazionale, vedere se ho fatto qualche casino con qualche polizzo o con qualche contestazione precedente e con un clic una situazione aggiornata. Questo è fintech, cioè utilizzare la tecnologia, l'elaborazione dei dati, la disponibilità e l'accesso dei dati per rendere la vita migliore a chi fa il nostro mestiere. C'è anche un tema di costruzione dei portafogli, ma io ho iniziato a fine anni 90 a fare risk manager asset allocation, quando era stato introdotto nel mondo della finanza, dalla distribuzione guassiana al filtro e bootstrapping, che è una tecnica per costruire le simulazioni di rendimento. Oggi non esiste tecnologia più avanzata di quella che c'era vent'anni fa, e non funzionava vent'anni fa e non funziona neanche oggi. Perché? Perché sappiamo tutti che l'unica vera certezza della volatilità è che è imprevedibile. Cosa ci può portare di buono il fintech nel mondo dell'asset management se stiamo nel mondo della consulenza? È che aiuta i signori alla mia sinistra, e abbiamo il vantaggio di avere Invesco, che è forse uno di quelli che l'ha capito per primo, che sta evolvendo il modello. Non abbiamo più bisogno di uno che mi dica compra questo singolo prodotto, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a combinare le diverse soluzioni per diversi target di volatilità. Oggi con dei semplici algoritmi posso pensare per esempio a fare un pacchetto di fondi alternativi decorrelati al mercato obbligazionario che abbiano un profilo di volatilità bassa. Wow, molto complicato prima, oggi con tutta l'elaborazione dei dati che c'è si può modellizzare. Quindi lato consulenza e lato piattaforma, secondo me è molto bello poter parlare di fintech oggi. Così come c'è la parte operation. Noi siamo il paese più complicato del mondo. È devastante, pensate semplicemente, partiamo dall'adeguata verifica alla privacy, per non parlare dell'adeguatezza e di tutto quello che sono le firme previste dalla normativa italiana. Se riusciamo a pensare che sempre nella logica della centralità del consulente finanziario si può fare tutto con un cellulare, diventa tutto molto più semplice. Lanciamo a fine giugno noi per esempio un'app molto semplice in cui inserendo il codice si possono superare tutti i problemi di firme, archiviazione e documentazione. Molto smart perché? Perché parte dall'unico vero presupposto che è la vera minaccia del fintech, che non è il fintech in sé, ma è la discontinuità che il digitale ha portato nei comportamenti delle persone che ci stanno attorno. e non è solo il trentenne, perché mio padre mi scrive sul WhatsApp e lui non sapeva accendere un PC. Allora, qual è il vero problema del finte? È che tutti si stanno concentrando sul robot advisory quando non capiscono che l'unico vero valore del robot advisory è che è semplice e che si appoggia sulla tecnologia e sui device che abbiamo tutti in tasca. Ecco perché è importante che l'operation passino da un cellulare, che ci sia un modello di servizio con una piattaforma che poi si traduca molto semplicemente nel cliente e che semplifichi. Quindi fintech vuol dire riuscire in qualche modo a semplificare la vita tenendo conto che bisogna guardare il problema da una prospettiva completamente diversa. Perché se no è un puro fallimento. La tecnologia applicata alla banca, ci sono infiniti studi che dicono che la produttività delle banche è peggiorata. Eppure siamo pervasi dalla tecnologia. Perché? Perché si fa il processo tradizionale con la tecnologia nuova. C'è una cosa a cui io sono legatissimo e che terrò molto stretto è che abbiamo fatto una piccola operazione e siamo entrati nel capitale di una società digital, sono nel CDA, che sostanzialmente fa giochi per il cellulare. Fa giochi per il cellulare e l'unica piattaforma che ha integrato al gioco le chat. Ed è l'unica piattaforma al mondo che ha integrato l'e-commerce. Primo accordo al mondo con Amazon. Per me è straordinario, perché vedo come ragiona chi si mette nei panni del cliente per fargli il gioco, per fargli la chat, per fare il software, per fare l'e-commerce. Allora, se tutti gli strumenti, la dotazione che viene fatta per voi, viene fatta con una logica diversa, che è quella del gioco, che è quella di Facebook, perché Facebook, mia madre ha Facebook, cioè non è la ragazzina di 25 anni che ha Facebook. Quindi se riesco a sfruttare la tecnologia e l'innovazione e il cambiamento socioculturale che c'è per smettere tutto dentro un cellulare, ho fatto bingo. Quindi FinTech non è un problema, è una grandissima opportunità. Rob Advisory esiste da sempre, abbiamo inventato un bel nome, ma è semplicemente mettere in fila delle fasi del processo. Fasi del processo, che in Italia è complicatissimo, perché esiste una cosa che si chiama adeguatezza, che parte dal presupposto, che non si può mettere in fila in modo quantitativo le informazioni, ma bisogna aggiornarle continuativamente e prendere in considerazione tutto quello che è il profilo anche psicosociologico del cliente. E quindi io vedo grandissime complessità. Se guardiamo i numeri delle uniche due realtà che l'hanno fatta in Italia, una è tecnicamente fallita, l'altra è da sempre che deve crescere, ma non cresce, voglio dire, miauro per loro che ci riescano, ma non è certo il target della nostra clientela. Cinque minuti, l'ho fatti? Grazie. Grazie. Grazie.